Dio non gioca dadi con l'universo, è la celebre affermazione di Albert Einstein scritta in una sua lettera del 4 dicembre 1926, indirizzata appunto a Niels Bohr. Leonardo Fibonacci è stato uno dei più grandi matematici di tutti i tempi. Di fatto, questo nostro connazionale cambia la storia della matematica in Occidente, praticamente viene in contatto con l'algebra araba, ed era una matematica, la conoscenza della matematica e della geometria in quei luoghi era molto più avanzata di quella europea. Infatti, Leonardo Fibonacci porta tutto questo in Europa, il concetto di zero, ancora non c'era, i romani non hanno lo zero, iniziano a contare da uno, e scrive un libro fondamentale che è il Liber Abaci, che è stato pubblicato nel 1202, e nel Liber Abaci c'è una particolare progressione numerica che ancora oggi è conosciuta come progressione di Fibonacci. La progressione di Fibonacci è una serie di numeri che si computa in questo modo, praticamente il numero è la risultante dei due numeri precedenti, quindi prima dell'1 c'è lo 0, 0 più 1 è 1, 1 più 0 è 1, 1 più 1 è 2, 2 più 1 è 3, 3 più 2 è 5, 5 più 3 è 8, 8 più 5 è 13, e così via. Questa è la progressione di Fibonacci. La cosa curiosa è che la natura usa questa progressione, ad esempio, nello sviluppo di come l'albero genera i rami. O un ananas, ritroviamo nelle spire dell'ananas la progressione di Fibonacci nella natura. Se andiamo a vedere l'essere umano, il rapporto tra le varie parti del braccio, compresa la mano e le dita, è in sequenza di Fibonacci. Se prendiamo specificamente la mano, le falangi sono in rapporto di Fibonacci. Ma la cosa straordinaria è che anche nel microcosmo, e quindi nel DNA, la cui molecola misura 34 angstrom di lunghezza per 21 angstrom di larghezza, questi numeri 34 e 21 sono i numeri della serie di Fibonacci, e il loro rapporto 1,619 eccetera si avvicina molto alla proporzione aurea. Quindi c'è un qualche cosa che dice al corpo come si deve sviluppare. Ricordo che sono partito all'inizio cercando di spiegare che noi non crediamo più in Dio, ma credere in Dio è un qualcosa di religioso o ha a che fare con la scienza? Ma se noi postuliamo ipoteticamente che Dio esista e che la nostra vita sia governata da leggi che noi disconosciamo, vuol dire correre molti rischi se noi non conosciamo queste leggi. Sarà mica un caso che la vita dell'essere umano è un gravissimo incidente tra guerra, problemi economici, malattie, catastrofi naturali? Non è che c'è una verità ancora a noi sconosciuta fondamentale nella creazione che noi dobbiamo conoscere. La domanda è ma perché dal micro al macro il corpo umano si sviluppa secondo una condizione matematica, visto che la scienza dice che veniamo dalla scimmia o che veniamo dal brodo primordiale? C'è qualcosa di sconclusionato in questo.